Una pura formalità, è uno spettacolo tratto da un film famosissimo del 1994 di Giuseppe Tornatore che all'inizio ho molta perplessità nella critica perché il film è molto inquietante, molto profondo ma nello stesso tempo è uno spettacolo pieno di colpi di scena, pieno di grande tensione È il terzo anno che noi portiamo in Tournée per l'Italia questo spettacolo ed è la storia commovente, a mio avviso, di un uomo che aiuta un altro uomo a capire se stesso a cercare di comprendere quel viaggio, a volte bellissimo e a volte anche terribile ma sempre affascinante, che è la vita Grazie 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 Grazie